Sebastiano Barbanti, deputato democrat entrato in Parlamento con il Movimento 5 Stelle, non ha nessuna intenzione di aderire agli scissionisti. Abbiamo provato in tutti i modi ad aprire anche le richieste della minoranza. Ricordiamo i vari passi indietro fatti dalla minoranza. Prima volevano il congresso, poi non lo volevano più. Insomma, diciamo che i tentativi ci sono stati tutti quanti. E così il deputato guarda avanti a quel congresso nazionale, è invocato come strumento di democrazia e poi finito per diventare pomo della discordia. È una fase bellissima in cui ritorneremo di nuovo a parlare di tematiche, di progetti, di idee che sono fondamentali. E poi direi che davvero da questo punto di vista è una prova anche di democrazia, assolutamente. Quando lei è entrato nel Partito Democratico ha definito Renzi un rivoluzionario. Questo giudizio nel frattempo è cambiato? No, è chiaro e lampante come comunque sia Renzi, sia a livello governativo e sia anche a livello di partito, ha comunque stravolto il quadro così come era prima, ha rovesciato il tavolo e sostanzialmente ha, diciamo, cambiato un po' le carte in tavola. Ovvio che questo per me significa rivoluzionare. Tiziana Bagnato per la C News 24.